Quindi, leggiamo questa sera, non il quattordicesimo capitolo, e questo lo dico anche per gli amici che vedranno questa live su YouTube, dato che vedranno da questo punto della live, vi dico, come ho già detto, che il quattordicesimo capitolo lo saltiamo perché sono tutte informazioni geografiche a cui dedicherò dei video specifici, quindi non è che lo ignoriamo, semplicemente rimandiamo l'argomento e andiamo direttamente al quindicesimo capitolo, quindi se vedete che nella playlist manca il quattordicesimo capitolo è per questo motivo qui. Quindi io vi auguro buon ascolto e a Riccardo buona lettura. Prego Riccardo. Buon ascolto a tutti. Capitolo 15. In Oldor del Beleriand. Si è già narrato come con la guida di Ulmo, Turgon del Nevrast, avesse scoperto la nascosta valle di Tumladen, la quale, come in seguito fu noto, giaceva a est del corso superiore del Sirion, in una cerchia di montagne alte e aspre. E nessuna creatura vivente vi veniva, salvo le aquile di Thorondor. C'era però una via profonda sotto i monti, scavata nella tenebra del mondo da acque che andavano a gettarsi nelle correnti del Sirion. E tale via Turgon reperì, e in tal modo giunse alla verde piana tra i monti e scorse la collina isolata che vi si ergeva, tutta duro sasso, liscio. La valle, infatti, era stata in tempi antichi un grande lago. Allora Turgon seppe di aver trovato il luogo che desiderava, e risolse di costruirvi una bella città, rimembranza di Tirion sul Tuna. Tornò tuttavia nel Nevrast e vi dimorò in pace, pur continuando a rimuginare su come attuare il suo disegno. Ora, dopo la dago Raglareb, l'inquietudine che Ulmo gli aveva posto in cuore, tornò a risvegliarsi ed egli chiamò a sé molti dei più arditi e dei più destri tra la sua gente. E in segreto li condusse alla valle nascosta, ove diedero mano alla costruzione della città che Turgon aveva progettato. E sentinelle li posero tutt'attorno, sicché nessuno potesse penetrare nel loro cantiere, e la potenza di Ulmo, che scorreva nel Sirion, li proteggeva. Turgon, però, continuava ad abitare per lo più nel Nevrast, e così fece finché la città non fu completamente edificata, dopo cinquantadue anni di fatiche segrete. Si dice che Turgon comandò che il nome ne fosse Ondolinde, cioè rocca della musica a cuorea nel linguaggio degli elfi del Valinor, poiché sul colle erano sorgenti. Ma in Sindarin il nome mutò, e divenne Gondolin, cioè rocca nascosta. Allora Turgon si preparò a dipartirsi dal Nevrast, abbandonando le sue aule in Vieniamar vicino al mare. Ed ecco che Ulmo venne a lui un'altra volta, e gli parlò, così dicendogli. Or dunque, finalmente, te ne andrai in Gondolin, Turgon. E io, però, il mio potere, nella valle del Sirion, e su tutte le acque che vi scorrono, sicché nessuno potrà avvarcare il tuo tragitto, né nessuno scoprirà l'ingresso nascosto alla valle, con la tua volontà. Più a lungo di tutti i regni degli Eldalie, Gondolin si opporrà a Melkor. Ma non affezionarti troppo all'opera delle tue mani e agli espedienti del tuo cuore, e rammenta che la speranza vera dei Noldor sta in Occidente e viene dal mare. E ricordò a Turgon che questi era pur sempre sotto il dominio della sorte di Mandos, che lui, Ulmo, non aveva potere di annullare. Può dunque accadere, riprese, che la maledizione di Noldor colpisca anche te prima della fine, e che il tradimento serpeggi tra le tue mura. E se a loro saranno minacciate di fuoco, ma dovesse il periglio avvicinarsi davvero, allora dal Nevrast uno verrà ad avvertirtene, e grazie a costui speranza rinascerà per elfi e uomini di là dalla rovina e dal fuoco. Lascia dunque in questa casa armi e una spada, per modo che in anni a venire costui le trovi, e tu lo riconosca e non sia ingannato. E Ulmo rivelò a Turgon di qual fatta e misura dovevano essere l'elmo, la cotta di maglia e la spada che avrebbe dovuto lasciarvi. Poi Ulmo tornò al mare, e Turgon avviò l'intera sua gente, pari a un terzo dei Noldor seguaci di Fingolfin, e tuttavia una schiera maggiore dei Sindar, e se ne andarono un gruppo dopo l'altro in segreto, protetti dalle ombre degli Ered Wethryn. E non visti, giunsero in Gondolin, e nessuno seppe dov'erano andati. E per ultimo Turgon si levò e con i suoi familiari in silenzio passò tra le colline e superò le porte dei monti che alle sue spalle si richiusero. Per molti lunghi anni nessuno dopo di allora penetrò a Gondolin, salvo i soli Hurin e Huor, e la schiera di Turgon mai più se ne uscì, se non nell'anno di Cordoglio, dopo che se ne erano trascorsi più di trecentocinquanta. Ma dietro la cerchia dei monti il popolo di Turgon si moltiplicò e prosperò, rivelando la propria abilità in opere incessanti, sicché Gondolin sull'Amon Guareth divenne bella in vero, e degna di stare al pari persino con l'elfica Tirion di là dal mare. Alte e candide ne erano le mura e lisce le sue scalee e alta e robusta la torre del re. Qui vi scherzavano lucenti fontane e nelle corti di Turgon erano immagini degli alberi d'un tempo che Turgon stesso aveva forgiato con elfica perizia. E l'albero da lui eseguito in oro era detto Glingal e l'albero i cui fiori aveva fatto d'argento era denominato Belfil. Perfetto, perfetto. Sottolineo il M.Cup M.Porc Riccardo Millevoci, mamma mia. Complimenti a Riccardo, nonostante, ragazzi, Riccardo venga da una giornata di spostamenti. Molto lunga, sono sveglio dalle sei del mattino e ho lavorato. Ragazzi, la professionalità di una persona si vede soprattutto quando è sotto fatica, quando è sotto stress. Riccardo, nonostante qui sia semplicemente perché gli fa piacere stare qui, dimostra tutta la sua professionalità. Quindi non possiamo fare altro che ringraziare Riccardo e vi avrete fatto i complimenti. Ma grazie a voi che mi concedete questo spazio che è uno dei miei momenti preferiti della settimana. Idem, assolutamente. Allora, ragazzoli, in realtà ci sono un po' di cosette da dire qui. Sono tantissime, ma un po' di discussione. Esatto, non ci sono grandi eventi, però, anche io mi sono abbastanza divertito ad ascoltare soprattutto il dialogo tra le due signore, le due gentil donzelle. Partiamo però dalla premessa uh, menunno, grazie menunno, grazie, grazie, grazie. Allora, partiamo dalla premessa a Gondolin. Tolkien con questo capitolo mette le basi per Gondolin. Molto, molto chiaramente. E mette le basi anche per quelle che sarà poi la caduta di Gondolin, il suo, la storia della caduta di Gondolin, dove ritroveremo, tra l'altro, lo stesso, i stessi posti, persino Vinyamar. Noi sappiamo che Tuor, prima di giungere a Gondolin, passa per Vinyamar. Quella è una delle scene, una delle cose che preferisco della caduta di Gondolin. Sapete che io, tra le tre storie della prima era, al primo posto, per me, la caduta di Gondolin, si fa bene l'Ution, e infine i figli di Unic, sapete, non lo amo particolarmente. Uno dei momenti più belli, più affascinanti della caduta di Gondolin è quando Tuor, tutto in solitaria, si fa, tutta la parte del Nevras, scende fino a Vinyamar e visita i luoghi dove aveva vissuto Turgon. Quello, per me, con i cigni che gli passano sulla... Bellissimo, bellissimo, da brividi. Voglio mostrarvi rapidamente i luoghi di cui abbiamo parlato, di cui Riccato ci ha raccontato e di cui parleremo. Allora, i luoghi sono i seguenti, che sono, alla grande linea, i stessi luoghi che attraverserà, come ho detto, Tuor nella caduta di Gondolin. Allora, Turgon viveva nel Nevrast, cioè viveva qui. Gondolin per darvi... Allora, questo è il bel aereo, ragazzi, Mai penso che lo conoscete, grandi linee, voi lo conoscete. Gondolin è qui, però questa mappa, lo sapete, racchiude tutta la prima era. Quindi, in questo momento, nel Silmarillion, Gondolin non è ancora stata costruita, verrà costruita, appunto, in questi anni. e Turgon viveva qui. E in modo specifico, purtroppo... Oh, che è successo? Ho cambiato la mappa, aspettate, eccola qua. In modo specifico, qui si trovava Vignamar. Purtroppo, in questa mappa, non volendo renderla fin troppo densa di informazioni, quindi per facilitare la leggibilità, ho preferito non inserire le... Non mi va di chiamarla città minore, però è una città che, diciamo, Vignamar ha, almeno nel Silmarillion, un ruolo meno rilevante rispetto ad altre città, come altri regni, come Largotron e così via. Vignamar era qui, alla fine di questa catena di monti, si trovava esattamente qui. Ed era la città dove visse Turgon, prima di andare a Gondolin, come abbiamo detto nel libro. Quindi, Turgon veniva da qui e si trasferì poi, dopo aver costruito Gondolin, si trasferì qui. Nell'entroterra. Esatto, nella... tra i monti cerchianti. E bellissima anche come viene descritta il luogo dove verrà costruito Gondolin. Ritorna ancora la... l'ispirazione di Gondolin che si rifà, appunto, a Tyrion, cioè la città presente a Valinor. Questa cosa l'avevamo già letta, ne avevamo già parlato nello scorso episodio, secondo il quale i Elfi hanno cercato di, in più casi, di riproporre riproporre lo stesso fasto, i fasti e la bellezza di Valinor. E Gondolin è, appunto, un esempio. Ora, sulla parte di Gondolin, la cosa interessante è ovviamente ancora più interessante, se a mio modo rivedere, è il... il discorso, il dialogo con Ulmo. Dal dialogo con Ulmo, che, come vedremo, poi lui avrà una parte importante anche e soprattutto nella cadura di Gondolin, proprio nel traghettare, nello spingere Tuor verso Gondolin, e... la cosa più interessante nel discorso che fa con Turgon è la sua capacità di preveggenza. Lui prevede quello che succederà a Gondolin. Ora, noi sappiamo che da cosa potrebbe essere derivata? Da cosa potrebbe derivare questa sua capacità? Lo sappiamo, è presto detto. Lui ha fatto parte del... fa parte del gruppo dei Valar che erano all'inizio dei tempi e che ha preso parte all'Ainulindale. All'Ainulindale. All'Ainulindale, l'hai detto benissimo. All'Ainulindale. Scusa, a volte mi confondo ancora. All'Ainulindale. Quindi lui conosce il disegno e probabilmente nel disegno iniziale era riportato che Gondolin dovesse cadere come ultimo regno, come ultimo baluardo degli Elfi contro Morgoth. Ed è quello che gli dice lo stesso Ulmo. Senza contare però che gli dice anche guarda, che tu non ti puoi sottrarre alla maledizione di Mandosh. Quindi quello glielo dice molto chiaramente. Quindi è come se lui dicesse io posso aiutarti, però comunque poi le mani legate per quanto riguarda quella maledizione lì. Qui si potrebbe fare anche una riflessione in merito proprio alla girarchia all'interno dei Valar, del gruppo dei Valar, e anche in merito proprio alla natura di questa maledizione. Questa maledizione era anch'essa scritta nella Inulindale o è un qualcosa che conosce solo Iluvatar? Perché sappiamo abbiamo detto più volte che ci sono alcuni elementi che sono di cui solo Iluvatar è a conoscenza e che nemmeno i Valar conoscono. Ora, quale potrebbe essere la natura vera, reale di questa maledizione? se persino Ulmo, che è uno dei dei Valar più importanti, dei più potenti, è impotente nei confronti di questa maledizione. Noi, solitamente, noi, infatti, è infatti la maledizione, tra l'altro la parola maledizione, anche di questo abbiamo parlato stono un po', in realtà. Non saprei come definirla, è la previsione di Mandos? Come possiamo definirla? Perché non è una, cioè quella, Paolo sei mutato, aspetta, sei mutato. Profezia. Profezia, grazie. Io devo sentire il mio secondo, ragazzi, scusate. Vai, vai, vai. La profezia di Mandos, ne parlavamo già l'altra volta, non è un qualcosa che Mandos scaglia di sue mani sui Noldor, è un qualcosa che deriva dal comportamento dei Noldor nei confronti dei Valar, insomma, dal loro atteggiamento, da quello che fanno. quindi è un qualcosa che sembra in realtà provenire da, è un qualcosa che va al di sopra di Valar, sembra provenire direttamente dalla volontà di Luvatar. Quindi è un qualcosa che sembra non risiedere all'interno della Inulindale, ma prettamente nei disegni di Luvatar, cioè nelle intenzioni di Luvatar. E questa cosa, io ci, mi piace rifletterci proprio perché Ulmo sembra totalmente impotente davanti a questa cosa. Però non dice è l'unico che può salvarvi è Mandos. No, perché Ulmo sa a quanto pare che neanche Mandos può nulla su questa maledizione, perché Mandos è solo il messaggero di quella maledizione, che lui ha fatto una profezia. Di queste cose, poi Paolo ti lascio la parola a te, ti lancio poi la palla, voglio solo poi accennare alla parte due di questa prima parte del capitolo, è dove io mi sono divertito di più. Allora, voi immaginatevi Galadriel e Melian che alle tre e mezza del pomeriggio si stanno prendendo il caffè, si guardano uomini e donne in versione elfica e parlano tra di loro. Dice, ma che hai cucinato a tuo marito a fingolo quest'oggi, caramellian? Eh, ho fatto un po' di pan di viego. Insomma, è bellissima questa botta e risposta che è ricca di sottotesto. Il sottotesto è uno degli elementi più interessanti, più difficili da inserire in un racconto, in un romanzo, è una delle cose più difficili da gestire per un autore. E quanto è geniale Tolkien a inserire questo sottotesto all'interno di questo dialogo, di questo scambio tra Galadriel e Melian. Perché sì, noi siamo da un punto di osservazione privilegiato. Perché? Noi sappiamo che cosa è successo. Però io vi sfiderei a rileggere questo dialogo senza conoscere gli antifatti. Comunque voi riuscireste a percepire il sottotesto secondo il quale Melian conosce qualcosa, sa qualcosa di Galadriel. Noi lo sappiamo perché, ripeto, sappiamo come sono rifatti. Ma è bravissimo Tolkien proprio a darci quella sensazione che Melian sappia qualcosa ma che sembra non proprio sicura di quello che sa. però intuisce qualcosa. Intuisce qualcosa già solo guardando Galadriel. Ora, qui potremmo fare una riflessione sui poteri di Melian. Melian sappiamo che è una maia, quindi ha dei poteri che vanno ben oltre semplice elfo che fa un po' di preveggenza, ok? Ha dei poteri sappiamo molto poteri, tra l'altro di grande di grande caratura. Sappiamo che è lei che tiene unito il Doriath con la sua cintura. Vi rendete conto? Quindi non solo ha dei poteri fisici, materiali, lei riesce a tenere lontano le persone da un luogo geografico. Vi rendete conto la potenza che ha Melian? Non è un qualcosa da nulla e stiamo parlando di un maia. Io non so se Gandalf avesse potuto fare una cosa del genere di queste proporzioni e siamo comunque della stessa classe gerarchica, Melian, abbiamo davanti due maia. Ma Gandalf immaginate che crea una cupola di protezione su tutta la contea perché è quello che fa Melian con Doriath, anzi il Doriath è molto più grande della contea. Melian lo fa per secoli, per secoli lo fa, riesce a farlo ed è lei il merito e a questo potere si è una sorta di scudo assoluto si aggiunge anche questo potere il suo potere psichico mentale più che psichico un potere mentale che le permette di guardare e di andare ben oltre quello che vede ed è un potere che in realtà fateci caso in parte magari non dallo stesso livello erediterà la stessa Galadriel Galadriel presenterà lo stesso la stessa capacità di guardare di riuscire a vedere ben oltre quello che è visibile ad occhi ai nostri occhi è il classico potere di Galadriel questa cosa è Melian che la fa in questo momento e la fa alla stessa Galadriel quindi possiamo immaginare che Galadriel come dicevamo anche la volta scorsa abbia sviluppato avesse già dentro di sé questo potere ma che grazie agli insegnamenti di Melian e grazie al fatto che lei stessa è stata vittima vittima o comunque è stata bersaglio di questa capacità grazie a tutto ciò lei è riuscita a sviluppare ulteriormente durante la sua permanenza nel Doriat questa sua capacità ed è bellissimo come Melian riesca a fare un vero e proprio interrogatorio però senza passare per poliziotto cattivo rimanendo comunque su un clima con un'atmosfera molto tranquilla lei gli tira le parole gliele fa dire una gliele fa dire una alla volta una alla volta gli fa dire tutto non tutto qualcosa rimane segreto ovviamente Galadriel è a cazzi suoi certo ma ci mancherebbe Galadriel pensa ovviamente anche al fatto che vorrebbe comunque mantenere le cose come stanno di certo non vorrebbe avere Fingol e la stessa Melian contro però Melian riesce comunque a intuire che c'è in realtà qualcosa in più oltre a quello che comunque Galadriel le ha detto tanto è vero che lei capisce che qui il problema non è manco tanto Galadriel ma sono i figli di Fenn lei lo capisce lei lo intuisce lo avverte e cerca di avvisare Fingol ora se da una parte Fingol io lo schifo a morte lo sapete dall'altra Fingol si fa portatore di una difesa inaspettata che poi non è una difesa manco tanto efficace perché lui al viene che dice dice una cosa moralmente sindacabile lui dice dove sta e o no no fa una difesa però vorrei ritornare a quel punto vabbè a parte di Fenn non ho udito che voci le quali lo proclamavano grande dei suoi figli io do ben poco che mi piaccia ma è probabile che si dimostrano i più implacabili per essere il nemico vabbè fa un discorso ecco il discorso che facciamo pure l'altra volta raga a Fingol conviene che i figli di Feano stanno lì sopra perché si interpongono tra il suo regno e Morgos quindi lui a lui al di là di tutto fin quando noi vanno a dar fastidio a casa sua Fingol dice a me conviene che stanno là che mi fanno di male fin quando non mi vengono a disturbare a casa stanno lì mi guardano i confini e chi sta meglio di me è un discorso a cazzi suoi ovviamente ma è un re ci sta che voglia difendere il suo regno sto difendendo Fingol e questo ecco questo è il punto dove dice è stato il desiderio di vendetta e rivalsa della perdita subita che ha mosso in Oldor e dunque si può contare in pieno su di loro come alleati contro Morgoth con il quale non è neppure da pensare che scendono a patti ragazzi io non voglio darmi la patti però è quello che io ho detto qualche capitolo fa io che vi dissi cos'è che ha guidato perché io tendo a evitare linciaggi in pubblica piazza dei figli di Feanor e di Feanor stesso perché loro sono stati mossi comunque da un desiderio di per qualcosa che loro hanno creato che lo stesso Feanor ha creato non per un qualcosa che loro non hanno mai avuto e che vogliono avere come farà Fingol e lì Fingol sarà il discorso tra diverso Feanor l'ha creato i Silmarine e la sua creazione sono i suoi figli ora io vi pongo questo non voglio tornare a fare non voglio ma chi sono creati certo però l'ha creati lui non voglio tornare a fare strenue difese a favore di Feanor però se vi portassero via i vostri figli voi che come reagireste rispondetemi perché per Feanor quelli erano come dei figli anzi mi sa che ci teneva di più dei figli da quello che poi avevano molto più a cuore i Silmarine che i propri figli quindi ed è quello il ragionamento che fa Fingol adesso moralmente discutibile però ci sta è un ragionamento che fila ha un senso ha una sua logicità e concludo dicendo giustamente lui dice qui fa un discorso da re da politico lui dice loro vogliono i Silmarine chi li ha i Silmarine? li ha Morgoth quindi è impossibile che si fa lei o no con lo stesso Morgoth quindi io sto proprio dormo tra tra due guanciali perché da una parte tengo mia moglie che oltre a farmi divertire mi difende Doriath il Doriath ok? mi difende il regno e dall'altro i figli di Feanor che non hanno il minimo motivo per allearsi con Morgoth anzi avrebbero tutti i motivi per combattere Morgoth per riprendersi i Silmarine lui ovviamente in questo momento ancora non ha espresso il desiderio di appropriarsi dei Silmarine non l'ho ancora fatto però secondo me il germe Silmaril si è diciamo inserito nella sua mente con questo discorso qui che fa con Melian quindi se da una parte io forse questo è l'unico momento in cui ha apprezzato leggermente Fingo riesco ancora perché ha fatto dei ragionamenti ripeto ancora moralmente discutibili ma che hanno una loro logicità dall'altra abbiamo una Melian ma una Maya saggia potente che riesce a capire tutto solo guardando le persone incredibile e mette prevede quello che succederà perché mette sull'attente un finger che ovviamente non lo ascolta non l'ascolta questo e concludo dando la parola a Paolo dicendo ascoltate le vostre mogli vai Paolo su Gondolin voglio dire una cosa che si dice che Turgon e la sua schiera trova il passaggio per Gondolin passando in questa valle nascosta in questo passaggio sotto la montagna che guarda a caso se avete visto L'Hobbit di Peter Jackson nel primo film è stata presa come citazione quando i nani arrivano con Bilbo e Gandalf a Gran Burrone attraversano quella strada strana attraverso si vanno nel tombino e passano attraverso le montagne ed escono nella forra dei monti tale quale è stata presa chiaramente da qua perché nel libro non era così si scendeva e basta nella valle ed è bello questo collegamento al Silmarillion non detto non esplicitato ma comunque secondo me lampante e poi mi ha colpito l'importanza della musica ancora una volta all'interno della costruzione di Gondolin che si chiama la rocca della musica acquatica che insomma dà l'idea quindi dell'importanza della musica e anche di Ulmo cioè che è presente nella valle attraverso il fiume Sirion quindi ci sono questi due elementi la musica di Ulmo la musica dell'acqua e a proposito delle parole di Ulmo come è stato detto è veramente complessa come cosa perché io sono il primo a dire che in Oldor se la sono cercata cioè tutto quello che stanno vivendo certo c'è la maledizione di Mandos ma è una profezia sul loro futuro perché gli elfi agendo in questa maniera si sono vincolati per sempre a un destino ineluttabile e quindi Mandos gli ha già previsto che cosa succederà e soprattutto gli ha previsto morti guerre distruzioni dolori divisioni tradimenti la sconfitta e il ritorno e qua Ulmo dice una cosa importante dice che non è in suo potere spezzare questa maledizione o questa profezia però anzi dice che probabilmente si avvererà e che ci sarà il tradimento anche a Gondolin probabilmente che Gondolin cadrà o tutte cose che succederanno guarda caso però Ulmo dice un'altra cosa prima che queste cose succedano io vi manderò un messaggero e da questo messaggero dipenderà la salvezza di Gondolin e la salvezza di tutti in Oldor allora la cosa interessante è che questo messaggero verrà mandato ma non verrà ascoltato cioè questa cosa è vero che questo messaggero sarà alla base della salvezza del mondo perché sappiamo che da Tuor nascerà Erendil che porterà la salvezza ma allo stesso tempo Turgon non ascolterà la predizione di Ulmo e anche in questo caso si avverà la maledizione perché tutti in Oldor cadono sempre nello stesso peccato cioè la superbia quella di voler pensare di essere più furbi di saperla più lunga guarda caso la stessa cosa che succede nel Nargotron dove verranno mandati altri inviati da parte di Ulmo e quindi si realizzerà esattamente tutto questo ma Ulmo dice anche un'altra cosa molto interessante che se lui non ha il potere di spezzare la maledizione comunque dice di guardare sempre occidente cioè che la speranza dei Noldor viene sempre da occidente ecco questa cosa è importante sottolinearla perché ci sarà un momento più avanti nella narrazione e vedrà protagonista Turin in un dialogo in cui Turin parla con un elfo di Nargotron che gli dirà guarda che c'è una profezia guarda caso questa qui che dice che i Noldor non possono risolvere le cose ma che soli Valar possono farlo e giungerà un salvatore che riuscirà a sistemare le cose e Turin il massimo della superbia guarda caso come Turgon perché sempre gli eroi negativi alla fine proprio devono arrendersi alla superbia dirà che i Valar sono distanti e Valar non gliene frega niente dei problemi del Belen che bisogna agire noi dobbiamo fare noi perché dobbiamo noi risolvere i nostri problemi e dimostrare ancora una volta di sbagliare perché alla fine noi vediamo che i Valar le cose le dicono cioè questi poveri Valar ti avvisano anche e sono così buoni che ti dicono che ti mando pure un messaggero che ti dice che ti avvisa di fare che la catastrofe è imminente quindi preparati a scappare la situazione si fa dura e il problema è che poi la testardaggine di certi Noldor e anche di certi uomini sarà fondamentale io la vedo assolutamente così e poi io sono d'accordo con Frank nel dire che in questo dialogo tra Melian e Galadriel si vede perfettamente il potere di Melian cioè noi abbiamo visto che Galadriel ha già il potere di guardare dentro lo si dice nei racconti incompiuti aveva questa caratteristica di riuscire a guardare dentro l'animo delle persone e Melian riesce a guardare dentro l'animo di Galadriel quindi è un'altra di quelle cose che Galadriel sviluppa proprio stando in compagnia di Melian oltre a quella di chiudere il proprio pensiero il proprio regno di preservare le cose di creare un'altra Valinor quindi sono tutti elementi che ci fanno capire bene quali sono i poteri di Galadriel che una serie a caso avrebbe tutto non lo so è a caso proprio infatti e poi mi colpisce anche Melian ha una funzione profetica e ancora una volta le profezie rimangono totalmente inascoltate perché Melian davanti a questa cosa che ha scoperto da Galadriel dice che capisce tutto e dice che i figli di Feanor porteranno distruzioni tradimenti devastazioni a tutto il mondo guerre e nonostante tutto Tingle sentendo queste cose dice vabbè ma a me conviene tenermeli quindi anche lui ha un pensiero molto politico da sovrano del trono di spade in questo caso è il perfetto proprio sovrano del trono di spade ti aggreghi ti aggreghi al partito Fingol re di merda o meglio un certo punto di vista un politico ragiona bene facendo così ok allora mettiamolo così Fingol re moralmente discutibile è un personaggio molto ambiguo l'abbiamo sempre detto è un furbacchione proprio un sovrano politico l'abbiamo già visto che non voleva dare i luoghi però dice ai figli di Ainoldor ai figli di Feanor va bene mettetevi là così siete vicino a Morgoth siete vicino ad Angband e lo combattete voi anche in zone in cui io non ci sono quindi continua a portare avanti questo modo di vedere le cose va bene Rick vuoi aggiungere qualcosa? no mi tengo da parte per dopo perché dopo Fingol farà una cosa che ho molta voglia di commentare e che può aiutarci sempre a comprendere di più lo spettro di ambiguità entro il quale si muove questo questo elfo grigio lui grigio più grigio di lui nessuno questo metto eh sì va bene allora prima di riprendere il nostro capitolo vengo a leggervi un po' nei commenti l'ardore di Feanor purtroppo si riversò sulla sua stirpe io la vedo come una proprietà incredibile che fu difficile a gestire eppure Feanor resta oggetto dell'amminazione contraddittoria di tanti in parte anche mia questa è la potenza del personaggio eh sì e qui dobbiamo ovviamente fare il plauso al nostro Tolkien per aver creato concepito un personaggio del genere Frank ma perché Tolkien ci viene a sottolineare che durante la costruzione di Gondoli e Turgon fu fa da pendolare ma perché non poteva vivere eh ah sì 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 no ora ho capito ora ho capito non trovavo il soggetto della frase eh non poteva vivere a Gondoli si era ancora in costruzione lui aveva già la sua casa a Binyamar e viveva lì scusate ragazzi se voi state costruendo una casa una nuova casa e ci andate a vivere a vivere nel cantiere non vivete nel cantiere la vivete a casa vostra in attesa che la casa venga sia pronta quindi immagino che sia questa sia semplicemente una come dire una notazione narrativa di per dare logicità alla cosa non ce lo vedo Turgon che guarda il cantiere così per 50 anni e sta fermo lì come come imbalsamato quindi faceva avanti e indietro e soprattutto se ci pensate se ragioniamo dall'ottica dell'autore questa cosa è servita anche a Tolkien per inserire il regno di Binyamar che poi verrà utilizzato anche nella stessa cattura di Gondolin creando una connessione che ho sempre trovato una delle connessioni più affascinanti che è dell'universo tolkeniano tra il Silmarillion e appunto la cattura di Gondolin quindi è un'aggiunta è un il dettaglio di Binyamar è fondamentale è bellissimo è fondamentale ed è ovviamente una delle parti più affascinanti della cattura di Gondolin giusto un altro commento Ulmo in un certo senso sceglie una stella diversa rispetto agli altri Valar per l'affetto che ha Versiella sì l'Ulmo se ci pensiamo insieme a Dorome che li ha scoperti e li ha portati a Valinor è l'altro Valar che è maggiormente legato alla razza elfica però Ulmo interagisce di più con gli uomini che con gli elfi interagisce però per aiutare gli elfi eh sì sempre li usa come strumento gli uomini per aiutare gli elfi fateci caso visto che gli uomini hanno la capacità di modificare la musica esatto e quello lui lo sa perché c'era anche lui nella musica e è vero poi che gli elfi non ascolteranno l'uomo che arriverà però come diceva prima Paolo dall'uomo che arriverà nascerà qualcosa di importante nascerà il distruttore di Ancalagon eh sì ne è mica poco e va bene ragazzoni direi che possiamo andarci a fare la seconda parte che sono circa un attimo una due sono due paginette e mezza molto molto veloce però c'è un qualcosa di decisamente interessante di cui parlare quindi ragazzi ci leggiamo la seconda parte anzi il nostro Riccardo ci legge la nostra la seconda parte di questo capitolo e lo chiudiamo quindi buona lettura e buon ascolto regolica non andò guari prima che cominciassero a correre in mezzi sussurri tra i sindar chiacchiere relative agli atti compiuti da Inoldor prima di venire nel Beleriand si sa per certo quale ne fosse la fonte e il nocciolo di verità che contenevano venne moltiplicato e intossicato da menzogne i sindar però erano pur sempre incauti e creduli e come è ovvio Morgoth scelse proprio loro per questo primo assalto sferrato dalla sua iniquità dal momento che essi non lo conoscevano e Kirdan udendo quelle voci maligne ne fu turbato essendo egli saggio e ben presto quindi s'avvide che vere o false che fossero erano state diffuse con perfidi intenti benché ritenesse che questi fossero da attribuirsi ai principi dei Noldor frutto della gelosia tra le rispettive casate per tale motivo inviò messaggeri a Thingol onde riferirgli tutto quanto aveva udito caso volle che in quel periodo i figli di Finarfin fossero nuovamente ospiti di Thingol da cui si erano recati per vedere Galadria e loro sorella Thingol allora che ne fu molto turbato parlò con tono iroso a Finrod e gli disse assai mal consigliato sei stato cugino nel nascondermi cose di questa gravità ora infatti ho appreso tutte le cattive azioni commesse da Inoldor ma Finrod replicò che male ti ho fatto signore e quali cattive azioni hanno commesso Inoldor nel tuo regno da farti addirare né contro la tua maestà né contro nessuno dei tuoi hanno avuto pensieri o commesso azioni riprovevoli mi meraviglio di te figlio di E'Arwen disse allora Thingol che hai preso posto alla tavola di tuo cugino con le mani rosse del sangue dei parenti di tua madre eppure nulla dici a tua giustificazione né chiedi perdono Finrod ne fu profondamente ferito ma restò in silenzio dal momento che non poteva giustificarsi se non a patto di muovere accuse agli altri principi dei Noldor cosa che gli ripugnava di fare al cospetto di Thingol ma nel cuore di Angrod il ricordo delle parole di Karanthir si risvegliò amareggiandolo ed egli esclamò Signore non so quali menzogne tu abbia udito né da chi ma noi non siamo venuti qui con le mani rosse di sangue noi siamo mondi di colpa salvo forse la follia di aver prestato orecchio alle parole di Feanor il feroce e ci siamo ridotti come fossimo ebri di vino anche se soltanto quando quanto un ebrezza è durato non abbiamo commesso alcun male strada facendo ma a nostra volta abbiamo subito gravi torti e li abbiamo perdonati per questa ragione ecco che siamo definiti maldicenti e traditori dei Noldor immeritatamente come tu ben sai perché mossi da lealtà siamo stati zitti con te in tal modo meritandoci la tua collera ora però queste accuse non sono più tollerabili e tu devi sapere la verità e Angrod sfogò la sua stizza nei confronti dei figli di Feanor raccontando del sangue versato ad Alqualonde e della sorte di Mandos nonché dell'incendio delle navi all'Oscar e alla fine gridò e noi che abbiamo superato il ghiaccio stridente dovremo avere la nomea di fratricidi e traditori l'ultima parte ti spiazza la parte di questa parte di Finrod bella grazie 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 riccardo anche questa sera sei stato perfetto fantastico multipoliedrico sei stato di lei con mille voci quindi grazie per averci regalato anche questa i brividi per questo capitolo dove c'erano tanti dialoghi questo capitolo è solo dialoghi praticamente quindi è stato perfetto veramente vi ringrazio grazie a te io faccio fatica a beccare il carattere di Fingol sinceramente è un personaggio è ambiguo come Paolo come Paolo definisce sempre Fingol appunto rappresenta perfettamente gli elfi grigi è il personaggio più grigio che c'è in Silmarillion e io non capisco mai se è solenne se è intimo se è subdolo se è ingenuo è veramente secondo me il personaggio più complicato da capire di tutto il Silmarillion proprio a livello caratteriale ma anche di più accettato a livello morale sì cioè qual è la sua moralità lui a cosa a cosa tiene solo al suo regno a quanto pare e lo vediamo anche qua a lui che cosa fa ragazzi dice ah io ho scoperto che poi non è che l'hai scoperti tu Fingol il tuo moglio l'ha scoperto infatti io mi immagino Fingol che è una specie di burattino di Melian che poi non è vero perché Fingol non lo ascolta in realtà non granché Melian però vedo Melian che sa tutto e le sta a fianco e Fingol che prende decisioni ad cazzo ma non ad cazzo però decisioni a favore ovviamente di quello che secondo lui è la migliore strategia per mantenere la stabilità del regno che alla fine il suo interesse è quello come diceva Paolo prima è giusto va bene è un regnante che dovrebbe fare però un regnante dovrebbe essere anche saggio dovrebbe essere anche moralmente inattaccabile il re o meglio oddio secondo il principe non è proprio così caro Machiavelli però potrebbe dovrebbe avere nella mia visione forse un po' troppo ideale di re il re dovrebbe avere una certa saggezza un briciolo di sorgezza e in parte Fingol ce l'ha però è una saggezza politica come diceva pure Paolo prima cioè è un tutto una sua riflessione politica dettata dal fatto che a lui conviene che i figli di Finarfi stanno lì e anche adesso noi lo sappiamo a parte che vabbè abbiamo chi è Egnor o Angrod che ha parlato Egnor mi pare vabbè Egnor degno figlio di Finarfi sono abbastanza confondibili Egnor degno figlio di Finarfi Feonori il feroce ma per cortesia Feonori il feroce mi ha picchiato aiuto ma dai ma è ridicolo ma dai ma che allora a me non lo so guarda caso la stirpe di Finarfi che poi a me dispiace poi c'è Fingol che risulta di tutt'altro spessore rispetto a Egnor però a me mi sembra che Egnor quello che dice voglia fare la vittima non lo so non mi piace non mi piace vabbè che poi fa un po' anche ecco fa il vittimello cercando di spostare tutta l'attenzione su quello che Feanor ha fatto senza contare però che loro hanno partecipato a quello che Feanor ha fatto quindi va bene Feanor è il diciamo si è erso come porta bandiera di quello che è successo però voi avete partecipato e voi avete partecipato al fraticidio e poi dice scusate ma noi abbiamo attraversato il ghiaccio stridente e quindi comunque hai fatto parte hai partecipato al fraticidio che hai parte allora in che modo dovrebbe discolparti il fatto che tu hai attraversato il ghiaccio stridente dovrebbe rendere meno importante meno grave quello che tu hai fatto e soprattutto la bugia che voi avete detto o mei l'omissione che avete detto che avete fatto nel nordire determinate cose a pingol in che modo la il ghiaccio stridente dovrebbe rendere meno grave questo a vostra mancanza non lo so in che secondo lui dovrebbe renderla meno grave infatti poi dall'altra abbiamo la differenza di comportamento tra Egnor e Finrod Finrod figlio di Finarfi come la stessa Galadriel che a mio parere si ergono mille 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 metri sopra il padre Finrod fa un discorso molto più dignitoso e lui dice Finrod lui non nega non dice il ghiaccio stridente ci ha bruciato le navi no dice si va bene però hai ragione noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto però che cosa abbiamo fatto a te del tuo regno che danno abbiamo arrecato è un discorso molto più logico meno piangina rispetto a quello che fa Egnor e qui si vede la caratura la differenza di spessore di caratura tra Finrod e il fratello non a caso Finrod è un re il re del Nargothran Egnor morirà molto presto diciamo di si vabbè morirà anche Finrod ma in maniera in maniera eroica sappiamo come quindi vedete la differenza tra i due Fingol la reazione di Fingol è quanto di più prevedibile si possa avere voi vi immaginate no andate via dal Beleriand Finrod andate via dal Beleriand non proteggete più il mio regno ovviamente no Finrod fa ovviamente un discorso come dicevamo prima da politico lui dice va bene mi sono dice sono arrabbiato faccio un po' una paraprasi di quello che sono arrabbiato però non voglio che voi bene andiate perché voi mi aiutate a difendere il regno quindi sono arrabbiato però potete rimanere potete venire mi puoi trovare però intanto sono arrabbiato e perché sono arrabbiato bandisco il vostro linguaggio il quenio ok che grande che poi come fai a bandire un linguaggio alla fine cioè è un qualcosa di non puoi non puoi avere orecchie in tutto il regno che poi che cazzo di senso ha cioè bandisci un linguaggio se io dico una parola in quenia mi uccidi mi condanni a morte perché per alto tradimento per fraticidio scusate ma io parlo magari un sindar si dimentica di questa di questa di questa di questo bando del quenia parla dice una parola di quenia che fa viene accusato di fraticidio alto tradimento perché hai parlato del quenia dai ma che cioè che 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 legislazione che che legge fa cioè che 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 legge è questa non 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 dal mio modo dal mio punto di vista non ha senso proibire una lingua è un atto simbolico questo è sì questo è certo però che è difficilmente attuabile per quanto poi come vedremo il quenia prenderà sicuramente perderà eh il proprio seguito sicuramente avrà avrà diciamo ehm avrà contribuito anche il bando imposto da Fingol nel far perdere eh la 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 i diciamo nel far perdere di prestigio nel far perdere di persone parlanti il quenia però lì poi verranno si aggiungeranno anche altri fatti che cioè che gradualmente poi le persone che parleranno quenia eh molte di loro moriranno nelle guerre successive quindi non è solo il bando di Fingol a bandire definitivamente il quenia dalla terra di mezzo contribuisce ma non è solo quello per questo io dico da una parte come avete detto ormai abbiamo detto tante volte Fingol è un personaggio grigio perché da una parte si comporta da re che deve pensare al proprio regno e quindi deve deve agire anche andando andando contro magari ad alcune scelte andando contro alla alla moralità quella che dovrebbe essere la giusta moralità per un elfo in questo caso quindi si agisce come il classico re presente all'interno che viene raccontato da Machiavelli nel principe il re che comunque deve prendere anche delle decisioni moralmente discutibili comunque forti importanti però per difendere il proprio regno dall'altra però abbiamo un Fingol che cerca di mantenere questa sua moralità che però non riesce in realtà fallisce questa sua intenzione perché prende il sopravvento ancora una volta il suo intento di difendere il regno che quindi va a mio parere ad essere il motivo principale che muove questo re difendere il proprio regno al che poi parlandoci anche molto chiaramente quando lui inizierà a pensare ai Silmar la Naoglamir lui le sue priorità poi cambieranno anche lì cioè il Silmar forse si porrà poi vedremo in una posizione anche superiore rispetto al al proprio regno però lì subentrerà poi l'influenza del Silmar a cui poi ne arriveremo quindi diciamo per ora la sua priorità è questa però che lui porta avanti a discapito di della propria moralità e in parte anche a discapito secondo me della non lo so di un certo tipo di dignità che è la dignità che a sua volta deriva dalla propria moralità perché lui ripeto e chiudo preferisce accettare alla fine i figli di Feanor perché li accetta perché lui non li bandisce definitivamente li scaccia e così via perché a lui conviene fa comodo averli come non solo alleati ma come barriera a nord tra lui e Morgoth che è un discorso sensato ha una sua logicità ma alla fine è un re che vende la propria non la propria dignità non voglio renderla troppo cattiva la cosa che si vende però vende non lo so la sua le sue priorità le vende totalmente a a favore di una situazione che gli può appunto comportare un vantaggio dal punto di vista strategico militare o quel che è ora è un buon re non lo so io sinceramente faccio fatica ripeto anche io io stesso dal punto di vista mio personale io lo odio come personaggio lo lo non è che lo odio ma non riesco ad apprezzarlo granché proprio perché lo vedo un personaggio che in realtà fa ben poco di concreto a parte realizzare questo suo disegno politico a parte quello che il che non è da buttare però a parte quello fa ben poco rispetto ad altri re elfici che fanno ben altro e lo vedremo lo stiamo già vedendo e che però non lo so non lo vedo un po' non mi piace questo personaggio tutto qui non mi piace non mi piace non riesco a non riesco a identificarmi in parte non riesco nemmeno a comprendere poi pienamente come diceva prima Riccardo quelle che sono effettivamente le le sue intenzioni perché fa determinate scelte che si sono sono quasi sempre giustificate dal suo disegno politico però in certi momenti vorrei vederlo un po' più deciso un po' più come posso dire un po' non mi viene non mi viene la parola vorrei vederlo un po' più incisivo nelle cose risoluto risoluto non so un po' più dignitoso nelle scelte anche sta cosa di proibire il linguaggio si è un atto simbolico ma lascia il tempo che trova lui lo fa semplicemente perché vuole dare una parvenza di rispetto nel senso che comunque i figli di ferno si sono macchiati di un reato di una cosa grave quindi io non posso lasciare totalmente andare la cosa e quindi che faccio proibisco la cosa che alla fine sì è importante la lingua però dal punto di vista poi concreto quanto ci tengono i figli di ferno da parlare il quenya nella terra di mezzo non credo che sia stato questo gran danno per i figli di ferno una cosa del genere quindi ecco anche in quella decisione lui si è dimostrato a mio parere un re un po' troppo molliccio non lo so un po' troppo meh sì ok hai fatto il tuo discorsone però poi di concreto che hai fatto beh detto questo io non voglio potrei proseguire ancora per un po' però mi fermo e do la parola a Paolo vai Paolo te piace? Paolo Paolo dico solo una cosa ho il sospetto che in questa dissertazione che stai per fare verrà citato più volte schegge di luce eccolo lì volevo giusto tirarlo fuori visto che anche Riccardo lo sta apprezzando l'ho finito l'ho finito ieri una cosa interessante a questo proposito Musk le dico solo il commento di Musk stai rimedicando che Fingol è parendo di Teleri a Marsella Fer no è proprio quello il punto del discorso è proprio per quello che io avrei voluto vederlo un po' più incisivo questo re perché proprio avendo scoperto quello che è successo e quello che i figli di Fer hanno fatto il fatto che gli abbia proibito di parlare il Quenia e basta perché gli ha detto persino potete ritornare a casa mia gliel'ha detto a me mi sembra un qualcosa di molto è una mezza paraculata perché ripeto e poi non mi fermo giuro da una parte ha detto mi sono arrabbiato quindi non vi faccio parlare più il Quenia e dall'altra potete tornare a casa rimanete lì perché perché mi difendete non so se ho reso l'idea vero un buon re pensa a difendere il regno però poi non lo so non mi da è un re che mi manca a cui manca qualcosa dal mio punto di vista è infatti il re degli alfi grigi e questa cosa è una riflessione che abbiamo fatto intanto una cosa le cose Tingle le viene a sapere non solo da quello che ha detto Melian ma le viene a sapere da tutte le menzogne che mette in circolo Morgoth e i Sindar sono l'obiettivo di questa menzogne tanto che anche Kirdan ci crede e quando le sente pensa che siano i principi dei Noldor che hanno per le loro rivalità interne abbiano diffuso menzogne quindi sì si attribuiscono tra loro queste voci in realtà sono voci che vengono da Morgoth però poi c'è questo discorso della lingua allora politicamente potrebbe anche ah no aspetta parentesi come si chiama Agnor Agnor quando quando si difende dice abbiamo fatto il fratricidio del Colonna erano nostri parenti noi non c'entriamo quindi vai a sapere se è vero o no vai a sapere se è vero o no sappiamo che avranno partecipato ma figurati dai da certi da certi scritti ci viene da evincere che abbiano partecipato in difesa dei Teleri guarda Ric una delle cose che fra l'altro hanno portato avanti durante la serie più e più volte i fan della Galadriel della serie era proprio che Galadriel a quanto pare ha partecipato al fratricidio ha combattuto nel fratricidio secondo determinati scritti determinati passi quindi questa cosa è abbastanza accettata anche perché appunto riportata in alcuni passaggi e se ha partecipato Galadriel vuoi vedere che non hanno partecipato Finrod, Egnor e Angrod ma Galadriel viene detto che partecipa in difesa dei Teleri appunto quindi possiamo noi sappiamo che sono arrivati i figli di Fenor e hanno fatto bordello contro i Teleri poi sono arrivati i figli di Fingolfin non hanno ben compreso la situazione hanno pesato oddio i Teleri ci hanno tradito e hanno combattuto anche loro contro i Teleri e poi però quelli di Finarfin essendo imparentati attraverso le Arwen hanno combattuto contro i loro stessi simili in Oldor secondo questa cosa che abbiamo letto credo che sia nei racconti incompiuti no Paolo? Sì e beh anche nella history ci sono varie redazioni discordanti tra l'altro Tingle si rivolge dicendo figlio di Arwen cioè perché quello è l'importante perché era suo parente certo ma poi per quanto riguarda questo discorso della lingua io guarda non la vedo come te Frank perché noi dobbiamo ricordare una cosa che può essere un provvedimento una decisione politica che vale quello che vale ma stiamo parlando di un autore che era un linguista esatto e quindi cambiare una lingua era una roba bella grave secondo lui cioè attraverso la lingua passa un bel messaggio e ripetiamo questo libro qui interpreta questa decisione di Tingle in questa maniera cioè la lingua da Quenia diventa Sindarin quindi è una lingua grigia prende il nome proprio dei Sindar che sono gli Elfi grigi è una lingua che non è più quella di Valinor e quindi che è invece la lingua della luce esatto che priva della luce la lingua del Quenia che veniva da Valinor e in questo momento è un atto gravissimo è questo fatto da da Tingle e stiamo sempre parlando di un autore che era un filologo e un linguista cioè attraverso la lingua c'era la luce ed era l'ultimo barlume di luce proveniente da Valinor oltre ai Silmaril della luce originaria e nel momento e lui la vieta ormai non c'è più niente restano solo i Silmaril e anche la luce quindi ha perso questa sua caratteristica che veniva da Valinor quindi Tingle è autore di una di una decisione molto grave cioè questa sempre tenendo conto che Tolkien era un linguista di sono conseguenze notevoli perché comunque privano il mondo privano gli Elfi della luce originaria e quindi e la cosa che a me colpisce è che finora i Noldor hanno voltato le spalle alla luce sono stati loro volontariamente che progressivamente si sono allontanati andando verso l'ombra della Terra di Mezzo e anche il fatto che siano arrivati nella Terra di Mezzo con il Sole e la Luna che sono già risultato della luce corrotta perché sono nati dagli alberi morenti poi questo processo viene portato avanti dai Sindar cioè anche loro fanno parte integrante di questo allontanamento progressivo della luce fatta dai Noldor è pazzesco cioè i Noldor sono una specie di cancro interno che progressivamente contamina anche gli altri e secondo me questa fa parte della maledizione di Mandos delle previsioni di come poi i Noldor e il loro destino vadano a rovinare interamente la Terra di Mezzo il Beleriand e questa è una cosa interessante perché poi anche gli uomini ci cascano dentro cioè tutte le azioni hanno delle conseguenze e ti ritrovi che anche una stirpe che non fa parte di quella stirpe lì porti avanti questo discorso di disgregazione della luce originaria sempre più verso le tenebre quindi secondo me è un aspetto assolutamente primario all'interno della narrazione posso dire allora sono d'accordo sulla questione Tolkien linguista credo sia abbastanza evidente come cosa nel senso che è importante da un punto di vista simbolico molto importante per Tolkien fare agire far agire il tuo finger in quel modo però io vi chiedo come ho detto prima concretamente poi cioè dal punto di vista appunto sul territorio come posso dire dal punto di vista politico ecco a cosa serve cioè cosa gli è servito andiamo oltre il semplice il semplice simbolo ok l'identità come diceva Mel Marable negare la lingua è un po' come negare l'identità è la storia di un popolo vero giusto ed è come abbiamo come ha detto Paolo ho fatto notare Paolo giustissimo sappiamo che Tolkien da linguista ci tiene particolarmente ci tenesse particolarmente però di concreto tramite questa questa proibizione cosa ha fatto cioè se avessi detto vi proibisco la lingua ok e vi scaccio dal Beleriand siete oppure siete ufficialmente banditi dal Dorias avrei detto ok li ha praticamente rigettati hai rigettato loro e la loro cultura invece no lui dice io rigetto la vostra cultura la vostra lingua importante però potete comunque venirmi ancora a trovare perché si rifà il discorso che facevamo prima che è un personaggio molto ambiguo è un personaggio che ragiona dal punto di vista politico e purtroppo in Tolkien la politica non è una bella cosa cioè tutti i personaggi che ragionano in base alla politica sono molto negativi cioè basta ricordare Denethor c'è la lettera che dice che Denethor sarebbe stato se fosse sopravvissuto alla guerra dell'anello sarebbe diventato un pericolo perché è abituato a ragionare in maniera politica e quindi si capisce già che il politico è cattivo Saruman è un politico certo è il politico più moderno di tutta la terra di medio esatto e quindi siccome Tolkien aveva una concezione della politica del potere piuttosto negativa chi ragiona così purtroppo poi sono d'accordo dal punto di vista linguistico cioè una decisione del genere cosa porta poi a livello politico però è una riflessione di estetica linguistica e dietro a questo c'è una filosofia c'è la filosofia della storia una caduta progressiva per quello dico che anche i Sindar partecipano a questo allontanamento progressivo dalla luce a questa degenerazione che porterà alla distruzione del Beleriand è ovviamente un simbolo la lingua a livello simbolico con il significato della luce che progressionemente si affievolisce però dal punto di vista politico Tingle è un personaggio molto ambiguo e molto negativo secondo me ma affascinante perché è molto sfaccettato perché come hai detto poi il futuro avrà tutta una serie di mescolanze è un elfo grigio a tutti gli effetti come ha ricordato Riccardo ha una mescolanza di cose buone cose cattive il problema è che progressivamente cede anche lui va verso l'oscurità vedremo che sarà inarrestabile questa cosa e in fondo Melian gliel'aveva detto e lui va bene ci passiamo sopra a me conviene fare così quindi sono decisioni che va bene lasciano il tempo che trovano dal punto di vista politico però danno un'idea di come forse ragionava Tolkien e di come sia una spiegazione legendario mitico di questo discorso sulla luce voglio leggere il commento adesso vengo a leggere un po' di commenti e voglio dare anche la parola a Riccardo ragazzi leggo solo questo di Riccardo la perdita di identità cancella anche la cosina del popolo o disgrega divide l'impera ma Ricca ma lui non fa piacere questa cosa a lui fa piacere che i feanoriani sono uniti per combattere contro Morgos l'abbiamo letto prima quindi quanto a lui fa piacere dividere i feanoriani perché se i feanoriani si dividono si indebolisce pure lui perché si indebolisce il suo confine nord per questo dico vedete c'è della non lo so c'è della indecisione ci sono tante sfaccettature in questo Fingold allora è un personaggio complesso questo io lo questo è merito di Tolkien non di Fingold è un personaggio complesso questo è poco ma sicuro però che offre secondo me tanto il fianco a critiche di certo poi ha fatto delle cose buone anche lui ha bonificato il Doria però poi vedete in alcuni atteggiamenti a me mi risulta a volte incoerente a volte contraddittorio a volte poco incisivo meno a mio punto di vista sarà fa parte della caratterizzazione del personaggio questo è vero quindi lo accettiamo così però giudicando poi il personaggio così com'è da un punto di vista anche morale a me mi sembra che abbia che ci sia un po' da un po' di cose da ridire su questo film ok prima di venire a leggere gli altri commenti Rick vuoi aggiungere qualcosa sì certo che questa questa decisione di Thingol di vietare la lingua quenna cioè la lingua che in qualche modo è portatrice di luce perché come ha giustamentissimamente detto Paolo Tolkien da filologo dà un valore alle lingue questo bando di una lingua non può essere considerato alla leggera se è scritto da un amante delle lingue come Tolkien è un po' questo gesto che fa Thingol è un po' il chiodo della bara del suo personaggio è un po' la sua da qui in poi lo vedremo degenerare in questo suo perché lui ha un rapporto con la luce un po' malato noi capiamo fin dall'inizio non ha un rapporto essendo un elfo grigio un elfo del crepuscolo Thingol vuol dire manto grigio K grigia cioè lui copre la sua luce originaria di Calaquendi per lui tra l'altro è un Calaquendi un elfo della luce avendo visto Valinor lui però idealmente questo suo nome copre la luce che è inseta in lui e noi infatti lo vediamo accontentarsi sempre di luci soffuse essere sempre attratto dalla luce dalla luce originaria quella di Valinor però accontentarsi di meno lui lo vediamo lo vediamo proprio durante il viaggio verso Valinor lo vediamo fermarsi incantato da Melian lui rifiuta la luce piena la beatitudine della luce piena promessa da Valinor perché rimane affascinato dalla luce di Valinor riflessa in Melian e la luce di Valinor riflessa in Melian è una parte una minima parte di quella luce di quella luce primigenia lui è come se si accontentasse di meno lui si ferma nella terra di mezzo affascinato dice beh ma sì in fondo un po' di luce di Valinor riflessa in Melian c'è mi accontento e sto qua con Melian con questa poca luce piuttosto che andare fino a vedere la vera luce poi gli capita l'occasione di mescolare Noldro e Sindar e fa questo editto contro la luce ha una figlia unica Luthien la figlia di Tingle e Melian è naturalmente unica essendo l'unica elfa che è un miscuglio di sangue elfico e maia e lui la tiene possessivamente gelosamente nascosta nel Doriath e si oppone con tutte le forze perché è per crisi Feanor volevo dire Beren non ce l'abbia questo è un suo attaccamento a quella poca grigia luce che è riuscito a conservare nel suo legno di cui Luthien rappresenta il culmine e poi lo vedremo pure con il Sindarin sì con il Silmarin lui con il Silmarin avrà una possessività tale quale a quella di Feanor infatti lo vedremo fare una cosa identica a quella che ha fatto Feanor e a quella che farà Morgoth tra l'altro loro tre invece di capire che la luce va condivisa deve essere un dono di tutti sono così malvagiamente sì no malvagiamente insomma possessivamente attaccati alla luce che invece di donarla a tutti la pensano come una cosa propria e tutti e tre la seppelliscono in un luogo profondo Feanor la seppellisce a Formenos nelle aule di suo padre nel Valinor Thingol la nasconderà nelle profondità del Menegroth e invece Morgoth la metterà sotto le cime del Tangorodrim la terrà gelosamente incastonata nella sua corona questi tre personaggi nascondendo la luce del Silmaril sotto le montagne sotto la terra perché tutti e tre la mettono proprio sotto la terra rivelano in qualche modo il loro il loro cattivo rapporto con la luce il loro aver frainteso il senso della luce Melkor probabilmente non l'ha frainteso perché la tiene nascosta per negarla agli altri però Thingol e Feanor a sua volta fanno quello che fa Menegroth inconsapevolmente e quello che fa Melkor inconsapevolmente come Melkor nascondono la luce Melkor lo fa per un disegno suo malefico loro lo fanno aiutando inconsapevolmente i malefici disegni di Melkor e Thingol appunto lo vediamo trattare la luce in modo molto sbagliato secondo i canoni di Tolkien e questo rifiutare il Quenya che è una lingua che arriva dalla terra degli dèi dalla terra dei Valar dove ci fu la luce suprema il fatto che lui bandisca questa lingua che è portatore di quella verità che gli elfi grigi i sindar che hanno vissuto in una terra di mezzo e questa verità non la conoscono da questa verità potrebbero beneficiare e loro ci mettono invece un muro davanti loro rifiutano la luce per questo decreto di Thingol mi taccio ho parlato abbastanza no 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 penso che abbiamo sviscerato l'argomento in modo piuttosto esaustivo in varie posizioni varie riflessioni quindi direi che possiamo va benissimo così vengo a leggere un po' di commenti poi andiamo a salutarci allora salutiamo Mick Porcu buona serata buonanotte e sì un po' a tutti infatti adesso andiamo comunque a nanna fra un po' Mastro Lorin forse si può fare come questo ragionamento nel mantello grigio anche con Gandalf ma al contrario Gandalf si nasconde e poi si rivela mentre Thingol usa il grigio per nascondersi è un senso diverso i mantelli grigi di Gandalf e di Thingol esatto è uno di Thingol è più complesso Thingol danna la casa di Feanor nella sua essenza la lingua e pur non potendo volendo vendicare il ferricito con le armi non farà mai nulla per aiutare i penoliani resta aperto a Thingolfin e i figli di Finarfin ma la Nirna Arnold ha rifiuto dei rinforzi per l'avversario per l'avversione a Medros politico sempre ma non senza Cieco Livore Cieco Livore oddio penso che adesso abbia mostrato che il Livore quando gli conviene lo mette da parte l'hai detto anche tu scusami se sei rifiutato di comunque si è accettato di rimanere amico con i figli di Thingolfin con i figli di Finarfin e così via che comunque hanno partecipato a quello che hanno fatto anche i figli di Feanor e di certo non rifiuterà la difesa da parte dei figli di Feanor e non li bandisce a quanto pare lui bandisce il Quenia stop è l'unica cosa che fa bandire il Quenia non dice i figli di Feanor non devono entrare nel mio regno non lo dice ora ripeto ancora lungi da me mettere in dubbio l'importanza del bandire la lingua da un punto di vista simbolico però da un punto di vista concreto ve lo ripeto ancora effettivamente cosa dà questo tipo di di decisione per me non porta nulla di effettivamente concreto da un punto di vista politico-militare se tu sei così arrabbiato vuoi mantenere il tuo punto e vuoi difendere il tuo onore la tua dignità o quel che è dato che ti hanno ammazzato i parenti fai qualcosa di più concreto lui preferisce scegliere sceglie di di accettare la convenienza della protezione di coloro che si sono macchiati dal crimine piuttosto che fare qualcosa di materialmente poi più concreto appunto come bandirli ripeto perché non li ha almeno perché non li ha banditi dal proprio regno perché perché comunque se li sarebbe inimicati quindi ha preferito persino non bandirli neppure comunque gli concede la possibilità di venire al suo cospetto io almeno mi aspettavo che fossero banditi non fa nemmeno quello se voi ma capisco per voi magari può sembrare abbastanza per me personalmente non lo è avrei voluto vedere qualcosa di più concreto da parte sua Andrea Magni ci dice Fingles si limita a bandire il Kenya perché vuole infamare i fenoreani ma allo stesso tempo gli fa comodo averli tutti intorno a fargli le scude come Morgoth esattamente un qualsiasi altro sovrano avrebbe dichiarato guerra contro chi ha attaccato i propri parenti ma non è per forza guerra ma bandisci qualcuno dici no voi non entrate più nel mio regno e invece no gli dice proprio potete venire ma lui da stato politico li sfrutta per mandare nelle loro battaglie loro nelle battaglie contro Hankman e inoltre il suo esercito non avrebbe avuto la forza o l'esperienza necessità di sconfiggere i figli di Feano infatti sono perfettamente d'accordo con te Andrea è un uomo politico che sa quello che sta facendo dal punto di vista politico che però ci perde da un altro punto di vista da un punto di vista non so più di spessore proprio anche e soprattutto morale perché come tu hai giustamente detto come ho detto cento volte non lo ripeterò più preferisce puntare alla sicurezza del proprio territorio piuttosto che prendere un provvedimento un po' più efficace un po' più importante quindi ripeto ancora questo non vuol dire che il proverbio la lingua non sia importante l'abbiamo detto l'avete detto in tanti ci sta va bene però poi sul campo non è che porta questo grande questo questo gran come dire questo gran peso sui feanoriani si ci bandisce la cultura poi il quenia non era solo dei feanoriani raga il quenia il quenia è la lingua parlata a valinor quindi non è una lingua associata solo ai feanoriani parliamoci molto chiaramente quindi si proibisce la lingua di valinor in realtà più che la lingua dei feanoriani diciamolo molto chiaramente quindi no Frank Fingol permette solo ai figli di Fenianalfi di entrare nel Dorian ma non proibisce agli altri di entrare non dice io proibisco a loro di entrare non lo dice a me non mi sembra che lo dice dal testo se poi lo vogliamo supporre nel nostro discorso ma non lo dice magari potrebbe non fare di piacere che un feanoriano lo viene a trovare dice io i feanoriani a casa mia non li voglio caccià banditi i feanoriani non lo dice vabbè comunque allora ragazzu eh volevo leggere l'ultimo commento ah l'ultimo commento andiamo sul sul campo religioso per te Paolo si possono trovare analogie fra la maledizione di Mandos e il peccato originale biblico e magari fra il fraticidio di Alcolonde e l'episodio di Caino e Abele Paolo a te si possono vedere a patto di non fare il solito ragionamento uno a uno cioè non sta molto in piedi anche perché queste sono cose che allora nella Bibbia sono le prime cose che succedono qua ne succedono molte altre prima quindi l'abbiamo letto cioè arriva solo dopo certo è che il fratricidio potrebbe essere effettivamente quello io dico solo una cosa nella Bibbia il fratricidio Caino e Abele è il primo effetto della rottura di Adamo e Eva nel loro rapporto con Dio il primo effetto è che i figli si ammazzano tra di loro e in questo caso o nel caso dei Noldor è il primo atto che succede quando i Noldor rompono con i Valar potremmo leggerla anche in questo modo sempre con le dovute proporzioni non pensando che la storia di Tolkien sia il calco della Bibbia perché non è assolutamente così la maledizione di di Mandos io la leggo in un altro modo avete presente nella Bibbia quando il re Davide combina quello che combina con Bezzabea gli fa morire il marito perché così si appropria della moglie gli arriva il profeta Nathan e gli dice c'è l'uomo che per avere l'unica pecora ne aveva 99 ammazza il proprietario per tenersela e Davide dice che disgraziato quest'uomo bisognerebbe ammazzarlo e il profeta gli dice sei tu quell'uomo e siccome tu hai fatto proprio questo il peccato la spada di spada è ucciso e la spada non uscirà mai più dalla tua casa e succederà proprio questo cioè io vedo la profezia di Mandos come la profezia di un profeta della Bibbia cioè uno che dice guarda che ci sono delle conseguenze alle tue azioni questa è la cosa che bisognerebbe valutare in questi casi perché il profeta non è quello che ti legge il futuro semplicemente anche la profezia di Mandos non è una cosa che ti dice come andranno le cose tipo Nostradamus è semplicemente una persona in questo caso un Valar che ti mette in guardia e ti dice guarda che tu hai combinato delle cose e queste cose hanno delle conseguenze e di cui subirai che patirai tu e i tuoi cari e le persone con cui entrerai in contatto è ovvio quindi io la vedo molto più in questa dimensione grazie a tutti